Il denaro e la minaccia hanno una forza difficile da contrastare, però io mi immagino che ogni volta che succede una cosa così sconcertante c'è gente che dice, vabbè allora vuol dire proprio che tocca a me metterci le mani per raddrizzare la baracca. Ecco, questa sarebbe la mia reazione, mi immagino che un cristiano serio reagisce così, come uno che dice è ora di alzare la testa, di fare un po' di pulizia ma non dicendo adesso li mettiamo tutti al muro ma piuttosto adesso ci facciamo avanti per essere gente onesta che fa il bene della città senza cercare troppi guadagni e senza aver troppa paura delle minacce dei cattivi.